Buongiorno, buongiorno Eleonora, si continua il processo ai cosiddetti amanti diabolici, signora Concetta, è stata finalmente, è finita la requisitoria del PM e è stata fatta la richiesta di pena, ergastolo per entrambi, con isolamento di urno per sei mesi, tu hai avuto una reazione, ti sei messa a piangere quando hai sentito questa richiesta Concetta, cosa hai provato? Ho provato l'ergastolo e ho provato che hanno dato l'ergastolo per quello come pensavamo noi, perché questo meritano loro, io voglio giustizia per mio figlio e mi auguro che il giudice e la giuria popolare leggono bene le carte e che danno la stessa condanna che ha dato il pubblico ministero. Non si sono pentiti, non hanno detto assolutamente nulla che potesse anche aiutare la signora Concetta a ritrovare il corpo, perché ricordiamo che il corpo del figlio non è stato ancora ritrovato, per cui non sono ammesse nessuna delle attenuanti generiche, perché non hanno mai collaborato, si pensa anche alla premeditazione signora Concetta, perché loro volevano già fare questo che hanno fatto il 31 gennaio e la settimana precedente. Il 25 gennaio lo dovevano fare questo omicidio e non è stato possibile quel giorno e l'hanno rimandato il giorno 101. Come si può pensare che queste persone sono innocente? L'hanno premeditato questo omicidio e perciò mi auguro che la giustizia faccia il suo corso, che ci danno l'ergastolo, perché meritano proprio questo. E Carlo vuole giustizia? Ecco, naturalmente sono stati analizzati tantissimi punti, pensate due giorni di requisitoria, i PM hanno parlato di tutte le incongruenze, di tutte le bugie, di tutti gli elementi oggettivi che hanno in mano per richiedere l'ergassolo per entrambi. E tante sono state, signora Concetta, le bugie che hanno detto, tante versioni come quella della macchina che... Che non era guidata dalla Camallere e il fatto della potologa che dicevano che non erano andate dalla potologa, invece non ci sono andate. Tante, tante... La versione che è stata poi cambiata quando leggendo le carte... Esatto, esatto. Ma l'hanno cambiata anche perché non erano credibili in quello che raccontavano, no? Perché poi non corrispondeva ovviamente alle... Esatto, perché c'erano le telecamere, avevano tantissimi indizi, esatto, esatto, avevano tantissimi indizi che collocavano la macchina della Camalleri nel luogo dove è stata ritrovata la macchina di Carlo. E quindi ha dovuto per forza cambiare versione perché non era credibile, perché lei continuava a dire che era stata dalla madre a termini merese dalla potologa. Quindi a un certo punto quando si accorta dalle carte che avevano la targa della sua macchina naturalmente ha dovuto cambiare versione. Ora la parola passerà agli avvocati della difesa e dopo ci sarà la sentenza. Grazie Carla. Allora, concetta, volevi dire qualcosa Sarno? Sì, no, è il classico processo indiziario dove ci sono una serie di elementi però di riscontro rispetto alle incongruenze delle dichiarazioni delle parti. E quindi oggettivamente diciamo ci sono tutte quante le condizioni, i magistrati e il pubblico ministero hanno fatto una richiesta che era adeguata al caso. Ora giustamente dobbiamo aspettare la sentenza ma credo che il percorso dei magistrati e il pubblico ministero sia stato molto serio, attento ed orientato. Potrebbe reggere ma non è detto perché ci sono tanti elementi che possono a difesa diciamo di chi è accusato potrebbero riferire di chiacchierate. Perché poi la cosa più centrale, almeno a parte i riscontri oggettivi di cui avete parlato, è molto anche la suggestione delle conversazioni che sono spiegate. Certo, delle intercettazioni. Allora grazie, rimaniamo intanto grazie al signor Acconcetta. Vado un attimo prima di andare a Firenze.